I prodotti rinnovabili, o meglio, i prodotti a base biologica, seguendo la terminologia adottata dagli standard europei, sono i prodotti composti totalmente o in parte da sostanze naturali, come ad esempio l'amido o la cellulosa, che sono sostanze di origine biologica. Si usa spesso anche il termine prodotti rinnovabili, in quanto le piante, dopo essere raccolte, possono essere ripiantate per dare luogo ad un altro ciclo culturale, via dicendo. Per questi prodotti è opportuno indicare la percentuale di sostanze a base biologica presenti nel prodotto, ad esempio prodotto a base biologica con un contenuto del X%, che può essere 40, 50, 60. Grazie a tutti.